La Lombardia rimane in zona gialla anche la prossima settimana, ad annunciarlo il governatore Attilio Fontana, ma la pressione sugli ospedali resta alta. Al Manzoni di Lecco, il Le Mandica al momento è ancora covid free, sono ricoverati 136 positivi, 12 col casco C-PAP, 10 in terapia intensiva, di questi l'80% non vaccinati, gli altri con due dosi e comorbidità. Riconvertiti 48 posti in chirurgia e 36 di medicina generale, differiti gli interventi chirurgici non urgenti, si garantiscono solo le urgenze e gli oncologici, circa 80 le sedute in meno al mese. Se io ne ho 136 covid ricoverati, qualcosa come vi dicevo ho convertito, anche perché no, dovrei raddoppiare il personale, sia medico che infermieristico. Dove invece, ahimè, andando in linea con quanto sta succedendo nel resto del paese, abbiamo ahimè i positivi anche tra i nostri operatori. Se ho ridotto i posti letto chirurgici è chiaro che ho due colli di bottiglia, uno il posto letto nel quale mettere l'operato, secondo le sedute di sala operatoria che sono condizionate dal personale infermieristico che di area critica, quindi sale operatorio intensiva, che viene quindi trasferito magari sui posti letto intensivi che sono aumentati a favore del covid. Stiamo praticamente in questo momento avendo solo interventi chirurgici dedicati agli oncologici. La pressione resta alta anche perché rispetto alla prima ondata della pandemia l'accesso al pronto soccorso è elevato e non solo legato al covid. A questo si aggiunge la necessità di coprire i turni del personale malato, 117 positivi, di cui 59 infermiere e 17 medici. Abbiamo aperto ex novo anche 24 posti subacuti per covid, mantenendo vivi i 26 letti, 16 alecco e 10 amerate di subacuti. Questo perché rispetto alle altre ondate pandemiche questa volta non c'è stata nessuna flessione da parte delle altre patologie.